Allora, RENA, Rete per l'Eccellenza Nazionale. Cos'è? Allora, RENA è un'associazione indipendente e plurale, questo è molto importante, animata da giovani che operano con merito sia nel pubblico che nel privato. Quindi è un'associazione su base volontaria. Come è nata? È nata in realtà qualche anno fa grazie all'intervento di un gruppo di giovani, Alessandro Fusacchi e Davide Rubini e altri in particolare. Un po' alla volta si è sempre più allargata, quindi tra contatti tra amici, piuttosto che anche tramite la stampa, quindi persone che ci hanno contattato indipendentemente da conoscenti o altro. E anche tramite i nostri progetti, le nostre attività. Ecco, Silvia di Bergamo, compadre delle mie parti, forlivese, che è a Roma ora per lavoro, che ha avuto un'esperienza a Bruxelles molto importante in materia di politiche sociali e soprattutto di utilizzo dei fondi europei. Lavori tra le altre associazioni per cui presti consulenza, c'è anche l'associazione dei presidenti delle regioni. Ecco, che cosa spinge una ragazza ad andare a Bruxelles e che cosa spinge una ragazza da Bruxelles a tornare in Italia e aderire anche a una associazione come Rena? Beh, allora, nel mio specifico, cosa mi ha spinto ad andare all'estero era la voglia di conoscere qualcosa di diverso, nel senso che io sono di Bergamo, ho studiato a Milano e mi trovavo bene in tutto. Se non che, dopo qualche anno, ho avuto il desiderio di conoscere altre esperienze. Ho avuto la fortuna di avere un pizzico di intraprendenza, quindi da sola, tramite internet, insomma, cercando nei vari motori di ricerca. Ho trovato il link e ho fatto domanda per andare alla Commissione Europea a fare uno stage, senza nessun contatto, senza nessuna conoscenza. Insomma, ho rispettato proprio tutta la procedura. E lì poi sono stata selezionata e ho avuto anche la possibilità, tramite altri concorsi, di fermarmi per un po'. E quanto ti è servita l'esperienza che hai fatto a Bruxelles? Per me è stata fondamentale. Poi ho avuto la fortuna di trovare delle persone molto interessanti che si sono anche occupate di me, si sono prese cura di me, dalla mia crescita professionale. E questo mi ha permesso anche di rientrare in Italia, quando l'ho deciso, volontariamente, e ho scelto Roma perché volevo venire a vivere una città importante, non che Bergamo non lo sia sicuramente, però una capitale, un altro respiro. E l'esperienza a Bruxelles è servita perché mi ha permesso di, in un qualche modo, presentarmi e di poter anche scegliere, insomma, cosa che non capita spesso, devo dire. Quindi la mia esperienza all'estero è stata pienamente valorizzata.